Musica Allora, prima di tutto volevamo sapere le sue impressioni per essere arrivato nel paese che ha dato i Natali al suo padre. Sicuramente c'è una forte emozione perché giustamente come ha fatto notare Mario che le giuri, se mio padre fosse nato qui non sarei nato neanche io, quindi questo è un fatto logico, biologico. Quindi c'è sicuramente un ambiente accogliente, particolare, nel senso che peraltro denota un po' le caratteristiche in generale della Calabria, ma in modo più particolare di questa comunità che è una comunità molto legata alle tradizioni. Peraltro Mario Colleggiuri è uno che tiene molto a andare a riscoprire la storia di questo paese e tutte le persone che hanno fatto la storia del paese stesso. Infatti la prima cosa mi chiamò e mi disse, ho l'atto di nascita di tuo padre e gli dico bene, perché lui è una persona particolare da questo punto di vista che tiene molto alla sua comunità e lo fa H24, 365 giorni all'anno in tutte le parti dove si trova, in tutte le istituzioni. Infatti il comune, pur essendo un comune di una piccola comunità, comunque ha delle prerogative che magari i comuni della stessa popolazione non hanno. Quindi proprio per l'impegno che l'attività comunale ha profuso nel raggiungere certi obiettivi e nel portare e diffondere l'esistenza delle sue comunità mannelli al di là dei confini del territorio, ma anche, diciamo, tutti conoscono, io per esempio ho chiesto il telefono a una persona di Mario, dopo un po' di cinque minuti, ho detto adesso te lo do, e subito che era un ex, e mi uscito fuori e mi hanno mandato subito il telefono. Cioè quindi è una persona che va fuori dai confini del comune. Questo proprio perché è intraprendente, è una persona che ci tiene ad affermare con orgoglio chiaramente il ruolo di Sovrania Mannelli e come tale in particolare di tutti i calabresi, non solo in Italia ma anche nel mondo. L'ha detto prima a microfono spento, ci piacerebbe di sentirlo. Cosa c'è di calabresa nel suo essere? Ma nel mio essere diciamo che c'è il 100% di calabresi perché, che se ne dica, l'etologia studia i comportamenti dell'uomo in rapporto all'ambiente. Ebbene io mi ritrovo in questo ambiente perché è un ambiente dove ci sono dei valori che sono in prescindere il valore della famiglia, il valore dell'aggregazione, del mutuo soccorso laddove anche se è un mutuo soccorso legato praticamente ai Natali, cioè alla storia della Calabria e il senso di essere tenaci, volitivi, voler in qualche maniera emergere attraverso il sacrificio in un certo trovando scappatoie. Diciamo che il calabrese dunque va, si fa notare, non passa inosservato perché vuole lasciare traccia. Ha il senso dell'orgoglio, dell'onore, il senso della parola e soprattutto anche non accetta che venga maltrattato e quindi agisce di conseguenza. Quindi queste sono cose che vengono semplificate con un termine che secondo me è sbagliato, cioè testardo, testone. Inteso come testardo, uno che non molla, io lo vedo come una persona che quando si pervigge un traguardo, cerca di raggiungerlo in qualsiasi maniera, sicuramente però attraverso il sacrificio. Lei vede nelle università, praticamente tanti ragazzi che vengono dalla Calabria e che devono sopportare anche dei disagi di carattere ambientale, di carattere economico, poi sono quelli che, come dire, prevalgono sul punto di vista degli studi perché devono dimostrare che non sono secondi. Queste sono le caratteristiche dell'ambiente calabrese. Sono delle caratteristiche che ha portato anche nel mondo l'Asia e che in fondo l'Asia forse aveva già uno degli indini, recita appunto non mollare mai. Infatti, ecco, lei ha fatto bene a sottolineare questo aspetto perché queste caratteristiche io le ho trasportate proprio nelle mie attività, in tutta la mia vita, tra cui l'ambiente sportivo, il fatto di non mollare, il fatto di non essere, di avere l'orgoglio della rappresentanza, della nostra grande, piccola, quello che sia società, senza mai temere confronti, soprattutto subire atteggiamenti che conculcano quelli che sono i nostri diritti e, diciamo così, la nostra prerogativa. Noi abbiamo, anche come Lazio, infuso il senso anche di una grande famiglia proprio perché cerchiamo di, dico, non solo allenare il fisico, allenare la mente e nutrirne lo spirito. Quindi i valori cristiani, ecco, normalmente è uno degli aspetti che denota il senso della famiglia, l'aggregazione, valori che vanno al di là dell'interesse materiale. Grazie a tutti.